A Genova sono sempre di più Boh è sulla spiaggia Fuori controllo la situazione Madonna Poi cosa non mangiavi Poi nemmeno senti E' che quello li ha nuovamente Hanno avuto comunque un conto Eppure faggono le scale da lì? No Però, guarda l'altro peggio qui Sembrano abbastanza abituati al luogo Sì, probabilmente sono abituati, si fanno un giro, qualcuno gli vuole arrangare Prende la signora che fa la venditrice e guarda lì No L'importante non chiudere il luogo Non ci sono abituatissimi, come una mamma non parla di tutto lì 200 persone Per lì in costume? È uno del posto È uno del posto Un posto